Ciao ragazzi, bene allora mi sono messo qua vicino all'ince che dobbiamo fare il filmato di oggi perché ieri ho concluso con i filmati inerenti agli otto pilastri della mia cinofilia perché ero in quella fase che doveva arrivato anche Scorpio che dovevo spiegarvi un po' quali sono i contenuti più importanti dei miei videocorsi tra l'altro ieri sera è finita la promozione ma voi potete ancora continuare sempre ad acquistarli se volete che mediamente li pagherete almeno 100 euro in più da oggi in poi molti ne hanno approfittato, quelli che non sono riusciti erano in vacanza e sono dimenticati bene, i videocorsi sono poi sempre gli stessi e li pagherete mediamente 100 euro allora finiti questi video inerenti ai miei pilastri della cinofilia adesso sono invaso da loro due che sono gelosi perché io mi sono messo vicino all'ince e Scorpio lui adesso vuole anche essere tenuto in considerazione lui riprendo con quella rubrica, non so se ve la ricordate che c'è sempre un perché cerco di rispondervi a tutti i perché che spesso mi domandate, mi chiedete, si brava, brava quando mi mandate i messaggi su messenger qualcuno di voi ha scoperto anche il mio numero whatsapp vi ricordo che il mio numero di telefono e di whatsapp è solo per chi vuole acquistare i miei cani o i miei videocorsi, chiedere informazioni, non è per chiedermi consigli perché i consigli io gli do solamente, i consigli in privato ai miei clienti guardatela che bella però non ha gradito che si avvicinasse troppo Scorpio, non pensavo già di andarci di mezzo dicevo, do i consigli solamente a quelli che diventano i miei clienti quindi in sintesi acquistano i miei cani o fanno dei percorsi completi che vuol dire che hanno acquistato tutti i miei videocorsi quindi non devo dare consigli su argomenti che non conoscono perché se li sono studiati, prima bisogna studiare, bisogna capire, bisogna applicare poi a questi che sono i miei studenti io posso dare consigli laggiù dove non fossero state sufficienti determinate informazioni però faccio questa rubrica c'è sempre un perché proprio per questo motivo cioè nel senso perché ci sono tanti perché che le persone si chiedono e quindi se ve li andati a vedere nei miei filmati tante cose se mi seguite le potete già capire allora il perché di oggi è perché io consiglio sempre penso che sia utile per non dire indispensabile avere il box di servizio il box di servizio che cos'è? è un box, un recinto, può anche essere una divisione del giardino dove voi potete quando desiderate per tutta una serie di motivi isolare il vostro cane o i vostri cani è una cosa che ai miei clienti faccio sempre costruire i miei studenti dopo capiscono attraverso tutte le informazioni che acquisiscono sui videocorsi, sui miei corsi dal vivo, eccetera le mie consulenze private e tutto il resto quanto sia importante ecco perché è importante avere il box di servizio è importante avere il box di servizio perché specialmente con i cani di un certo carattere è necessario che loro capiscono che non sono proprietari uguali a voi o più di voi del territorio che state dividendo perché un leader, e questo vale per tutti i familiari, il leader di un branco comunque anche chi mantiene un ruolo nella scala gerarchico più elevato di altri gli appartengono delle porzioni di spazio, di territorio ma anche solo di spazio riservate cioè tanto per capirci quando un branco di lupi ma potrei anche dire di cani randaggi, di cani in generale cacciano una preda o scovano una riserva di cibo ecco che ognuno in base alla scala gerarchica non solo si prende una parte ma spesso si sposta e va a mangiarla in disparte proprio perché il territorio è una cosa molto importante e mantenere determinate distanze anche ma non solo si verifica anche che ad esempio il capobranco di un branco di lupi quando riposa se non è lui di sua iniziativa che vuole interagire con gli altri componenti del branco vuole che gli venga rispettata una certa distanza di sicurezza questo perché per poter consentire agli altri soggetti e agli altri membri del branco di intervenire qualora uno dei membri tentasse in qualche modo un ammottinamento cioè cercasse di spodestare il capobranco e infierisse su di lui visto che la salute del capobranco è molto importante quindi ci sono tanti motivi ci sono tante cose pratiche che si possono fare sia quando si dà da mangiare sia quando vengono gli strani sia quando la femmina va in calore sia quando si devono fare certi lavori in giardino sia quando il cane non sta bene dove diventa utile e indispensabile praticamente adesso si sono messi tutti e due secondo me litigano di nuovo Scorpio è meglio che te ne vai perché lei stamattina si lascia così ma non è così interessata ad averti fra i piedi perché lei mi vuole tutto per me e lui si è rassegnato quindi ci sono tante funzioni che voi potete assolvere col bus di servizio ma la cosa più importante non è la parte utile cioè nel senso la comodità tipo che viene qualcuno chiudo il cane nel bus di servizio è proprio la concezione che il cane si fa di voi in quanto siete voi a poter gestire il suo spaziare nel territorio che in qualche modo vi deve appartenere non sempre ma nelle occasioni che voi volete e la stessa cosa anche il cane deve avere un territorio riservato dove qualsiasi cosa accade all'interno della proprietà lui va a difendere quel territorio perché quel piccolo territorio è ciò che lui collega alla sua sopravvivenza è ovvio che sono tutte cose che nei dettagli poi spiego ai miei studenti o ai miei clienti perché adesso non basterebbe magari un filmato di un'ora per far sì che voi non facciate confusione perché un conto è trasferirvi qualche nozione farvi capire perché sono così importanti certi accorgimenti un conto è mettervi in condizione di utilizzare al meglio tanto da attrarne i tanti vantaggi che potete trarne e non invece magari per degli errori andarvi poi a mettervi nei pasticci con le vostre stesse mani ma è importantissimo e non capisco perché in tante case a volte io vado e non ce l'hanno che voi abbiate il box di servizio cosa che è andato un po' a perdersi per questo concetto che il cane è un membro della famiglia è un cane un membro della famiglia fin quando poi non succedono guai all'interno della famiglia se no viene stromesso immediatamente invece la gestione oculata del cane tutto ciò che voi potete fare per come dire avere un buon rapporto col cane fa di capire quanto importante siete voi per lui come lo sono tutti i miei cani e preserva anche non solo dagli incidenti ma dal fatto che poi i cani poverini molte volte specialmente da chi è stato poco oculato poi si devono separare per non dire poi vivere magari sotto psicofarmaci piuttosto che essere ceduti magari chiusi in un canile o a sapere che cosa quindi volar bene al cane vuol dire innanzitutto conoscerlo, studiarlo prendere tutti gli accorgimenti possibili tanto da riuscire parlando il suo linguaggio a farci capire ma specialmente far capire al cane chi siamo noi e il motivo per il quale deve sempre mantenere un rapporto buono sia con noi e sia con tutti i nostri familiari bene, vi ringrazio tanto anche oggi di avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata a presto